Quindi se è quello che volete fare io vi dico buttatevi, organizzatevi perché buttarvi è la frase che vi diranno tutti Benvenuti in questo nuovo video Questo è un video per chi non segue il canale io sto prendendo un'azienda aperta, un'azienda agricola partendo da zero mentre invece chi mi segue e mi conosce già sa già il mio progetto se non avete ancora visto di cosa sto parlando vi lascio qua in sovraimpressione il video che spiega un po' il mio progetto Il video di oggi è un video un po' diverso dal solito perché ho spiegato come aprire un'azienda agricola, quali sono i costi mentre il video di oggi parla del perché aprire un'azienda agricola Aprire un'azienda agricola vuol dire anche questo avere una maggiore consapevolezza di quello che è la natura e di quello che sono i cambiamenti che stiamo vivendo Inoltre aprire un'azienda agricola e vendere i prodotti a chilometro zero è anche una scelta etica perché comunque evitiamo tutta quella produzione di CO2 quello spreco che si andrebbe a creare quando noi andiamo ad acquistare le verdure che arrivano magari addirittura da un altro continente Poi vedete qua, questo qui è un impianto che è il costo e il risorio sono tutti pali di recupero è possibile fare un'azienda di questo tipo anche con materiali di recupero come vedete nei video che ho fatto precedentemente quindi non bisogna farsi scoraggiare dai costi troppo alti certo non è a costo zero però si può partire con un budget molto basso quindi se è quello che volete fare io vi dico buttatevi organizzatevi perché buttarvi è la frase che vi diranno tutti non è buttarsi è studiare e organizzare soprattutto in base a quello che si può permettere anche per le proprie finanze se voi potete partire subito senza farlo come secondo lavoro ma buttarvi a tempo pieno ovviamente è meglio perché se è possibile dedicandoci più tempo si va avanti più velocemente se non potete farlo come molti di voi immagino potete farlo come attività secondaria ed è una cosa che richiede un investimento iniziale molto basso poi diciamocelo se dobbiamo aspettare il momento giusto non arriverà mai perché questo momento giusto non ci sarà mai perché per mille motivi non arriverà io stesso l'ho aperto durante la pandemia l'idea seria di iniziare è stata durante il primo lockdown nel 2020 ed è lì che ho deciso di cambiare un po' vita però non ci si può buttare almeno nel mio caso è cambiare vita completamente come fanno molti e come dicono molti cambia la tua vita eccetera non è proprio così perché se si hanno comunque delle spese impegni finanziari una famiglia buttarsi così allo sbaraglio è assolutamente dereterio va fatto un passo alla volta con cognizione di causa calcolando bene tutto ma è fattibile a quel punto ci si butta nel lavoro ma prima bisogna avere un minimo di studio io vedo molte attività che partono da zero perché un dice cambio vita inizio da zero ci si buttano dentro poi i costi ci soffocano perché come ho già detto nei primi anni diciamo i guadagni sono molto bassi e quindi bisogna mettere in conto che i primi anni se si parte così da zero non si hanno dei ritorni economici immediati è un progetto a lungo termine bisogna avere questa consapevolezza quindi io vi dico se volete farlo questi video spero che vi possano aiutare in qualche modo a darvi il via insomma a darvi un esempio non da seguire un esempio proprio da vedere nel senso da consultare se avete dubbi infatti vi invito nei commenti se avete dubbi domande da farmi a me fanno solo piacere le domande molti mi dicono mi scrivono un commento mi dicono mi spiace disturbarti scusa se ne insisto ma a me fa solo piacere dare risposte dare per quello che so dare la mia consulenza nelle vostre domande usando esclusivamente la mia esperienza quindi sbaglierò sicuramente come certo però io vi posso dire quello che secondo me va fatto e quello che ho imparato in questi anni insomma di lavori aprire un'azienda agricola è anche una cosa positiva per la comunità perché comunque i clienti che abbiamo sono le persone che abitano nella zona nel territorio che hanno modo anche di conoscere queste realtà come la mia io spero che in questi video si capisca quanta passione io ho per questo lavoro e quanto impegno ci metto e queste cose le persone le apprezzano perché perché comunque si sta cercando di dare un valore a quello che è il nostro territorio inoltre producendo le verdure gli ortaggi la frutta a chilometri zero si evita anche di movimentare tutto il trasporto tutta la filiera tutte le le celle frigorifere e tutto ciò che poi alla fine dei conti produce inquinamento in questo breve video io ho cercato parzialmente di farvi capire il perché io ho aperto un'azienda agricola e credo che debbano essere i motivi per cui anche voi iniziate non dovete partire con l'idea di farlo per guadagnarci anche perché se volete fare questo tipo di attività l'agricoltura in azienda agricola non è l'ideale perché se voi cercate esclusivamente il profitto comunque avere margini elevati non è sicuramente l'agricoltura nel vostro settore poi quello che arriva arriva non bisogna avere grandi aspettative se si parte in questo modo io parlo sempre se si parte da zero e si inizia come seconda attività poi chiaramente ci sono altri mille mille esempi da fare ci sono le coltivazioni intensive ma quelli sono altri discorsi io parlo di prendere una piccola attività da zero senza nessuno senza operai solo contando sulle proprie forze è una cosa che vi consiglio comporta dei rischi perché se dovesse rendermi conto che nei prossimi anni non c'è un ritorno di nessun tipo non è sostenibile economicamente per me mandare avanti però le premesse ci sono la cosa funziona e penso che anche nel vostro territorio la cosa funzionerà sicuramente inoltre io vi consiglio sinceramente di chiedere aiuto e aiutarsi perché io per dire qua vicino c'è una persona che ha un trattore e non sarebbe neanche dirglielo quando c'è bisogno di fare delle lavorazioni perché ha sempre voglia e volontà di farlo per aiutarsi tra vicini le altre aziende agricole che nascono che ci sono già nei dintorni non bisogna vederle come concorrenza come nemici bisogna trovarsi scambiarsi informazioni aiuto è una cosa che funziona perché poi ci si aiuta come comunità si cresce tutti se siamo tutti uno contro l'altro perché io vendo le verdure le vendi anche te allora sei il mio nemico non si va da nessuna parte si va solo indietro questi sono piccoli pensieri diciamo che mi che mi vengono da dentro che secondo me sto vedendo che sono la realtà tra piccole attività è giusto aiutarsi è giusto darsi una mano ed è quello che consiglio di fare anche a voi non abbiate paura se voi non avete un mezzo qualcosa di chiederlo a un vicino perché sicuramente a meno che ci avete appena litigato sicuramente vi darà una mano e magari nasce anche un'amicizia e tutto porta a cose positive questo brevissimo video questo breve video è finito io vi ringrazio ancora se avete dei consigli se avete un parere anche su quello che ho detto scrivetemelo nei commenti se non vi siete già iscritti vi invito a iscrivervi ma non perché siete obbligati ma perché diciamo un'iscrizione al mio canale mi dà un aiuto a mandare avanti anche questa diciamo attività perché fare i video eccetera comporta del tempo e a me fa piacere se uno si iscrive al canale perché gli piace ciò che dico gli piace il tipo di persona che sono di conseguenza l'iscrizione al canale per me è una cosa che mi dà davvero la voglia di continuare detto questo io vi saluto vi ringrazio ci vediamo nel prossimo video ce ne sarà uno prossimamente cercherò di farli come dicevo sicuramente tutte le domeniche e sto inserendo anche dei video infrasettimanali adesso poi che inizia l'attività in azienda inserirò anche tutti i video sulle varie coltivazioni i miei consigli vi farò vedere anche proprio le lavorazioni che andrò a fare io stesso vi saluto e al prossimo video e al prossimo video vi saluto